Chi autorizza i panevin nel proprio territorio, siano pure privati, va contro la linea del partito. Sulla decisione dei comuni leghisti di Oderzo e Codonier di consentire i falò dell'epifania, pur se a livello familiare, interviene con decisione il commissario provinciale del Carroccio, Gianangelo Boff, che a fine novembre aveva invitato i primi cittadini a rinunciare per quest'anno a una tradizione pur cara alla Lega, in nome della battaglia tuttora molto dura contro il Covid. Si erano subito allineati il capoluogo, ma anche l'amministrazione di Arcade, dove il panevin è l'evento dell'anno. Ai ribelli, Boff manda a dire. Chi in questo momento, senza comunque preannunciarlo, ha deciso di tenere una linea diversa da tutti gli altri, non si spiega, non si spiega anche perché chi lo fa in questo momento non è che fa un piacere o un dispiacere a qualcuno, ma mette in difficoltà anche i colleghi e lo trovo anche un po' poco elegante in un gioco di squadra che facciamo sulle tante partite che dobbiamo gestire in questo momento. Treviso tira dritto, il sindaco Mario Conte conferma i divieti. Quest'anno l'emergenza Covid ci impone responsabilità e quindi come Comune di Treviso abbiamo fatto la scelta di vietare tutti i tipi di panevin, sia organizzati da associazioni che privati. Concetto ribadito nel pomeriggio con un post secco su Facebook, qualsiasi falò sarà considerato abusivo e sanzionato. Conte non entra nel merito dell'operato dei colleghi. Io non discuto le scelte dei miei colleghi per quanto riguarda Treviso, oltre a una scelta così legata appunto alla tradizione, c'è anche un problema legato all'ordinanza antismog che è in vigore. Il nodo potrebbe essere sciolto a livello regionale proprio dal rientro in vigore anticipato dell'ordinanza antismog. Ci si sta lavorando e se andasse in porto metterebbe uno stop generalizzato a tutti i falò.